saluto cari mi è stata promenata per la urba dopo che mi trovi la riparista della bicicletta in questo periodo della iaro non è facile e quindi mi dovrei rimanere a fare la quartale quindi da tempo non è molto grave non mi voglio profiterare l'occasione per mostrare il video che partono dall'urbo che mi chiede e che mi ha ancora uno dei film di Sant'Ave tre tranquilla, tre meditema resta solo per dire il resto con me, con me di tu, con me, d'Ancon saluto e buonveno a mia nuova Zamenhofa Medito chod io mi volas legi il tiron el la tractaggio essenzio cae estontezo della ideo de lingvo internazia chiu pubblicigis in laiaro 1909 mi estas ie pagio 2070 legu la historion de nascigio della cristanezzo cae de diversae grandae ideoi en la regiono de moralo, filosofio, cae stienzo legu la historion della eltrovo de americo della inconduco, de fervoioi, cotopo, cotopo cie tutte tio sama es ist eine alte geschichte, doch bleibtsi imma noi estas mal nova ferro, tamen gi restas ciam nova en la piednoto la lumo aperas chiel necessar besonataggio altiu chiu staras mal proxime sed alla proxime starantae gi trancias la oculoin cae ili penas estingicin la ideo de Columbo che devas existi occidenta voio hinduion shainas al nii nun tiel simpla, tiel natura cae ni simple ne volas credi che povis iam existi homoi chiui stiante iam che la terra estas globo povis dubbi che al cia lando oni povas veni ne sole de Oriento sed ancau de Occidento vidu carai, estas tre interesse al mi la maniero en chiu Samenhof comparas diversain, gravaain novigoin della homaro cristanezzo la malcovro di americo scienza e il trovoi do kio estas comuna al ili ili estis radicalai novagi por la samtempuloi sed tutte banalai afferoi por la posteuloi no in la punto cai shainas al mi che la facto che ni devas ancora pravigi la existon de esperanto montras che la voio ancora olongas char la pleimulto della homoi ne nur ne constsias pri la existo de esperanto sed ec pri la eblo che planlingvo fungzio do ni ne forgesso pretio char se oni ancora devas disputi pri la existo de esperanto kiel ni povas esperi che esperanto estu acceptata la voio longas sed ni restu fidelai alla zelo kiel ciam dankon provia attento cai ci smorgau cai antauen sen fine cia n t to to si on 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 Grazie a tutti.